Sono da poco cominciati i casting di amici e a quanto pare i primi rumors sono già in circolazione. Tra i cantanti si è presentato lui Riccardo Mazzurco, un nome che apparentemente non dice nulla, visto che non è un volto noto allo Star System, ma a quanto pare ha avuto un allison o comunque un grande interesse per Aurora Ramazzotti. Il giovane, infatti, non ha tenuto nascosto il suo sentimento, visto che presentandosi al provino ha cantato Perdo le parole, una canzone da lui composta. Una volta terminata l'esibizione, il ragazzo, su richiesta di Rudy Zerbi, ha confessato di aver scritto il brano per una ragazza, non ad una qualsiasi però, tanto che ha specificato... No, è una cosa che in realtà non è partita all'inizio, poi avevamo due vite molto diverse. Perché tu fai il musicista, lei cosa fa? Fa... cosa fa? Non lo so. Vabbè, è la figlia di Ramazzotti. Eros Ramazzotti. Aurora! Il cantante. Non so se si può dire o meno. L'hai detto? L'hai detto. Sì, per quello. Continua poi dicendo. L'ho scritta l'anno scorso, quando l'ho conosciuta. Fortuna, bravura, ho entrambe le cose. Fatto sta che Riccardo ha passato il turno, ma non in sordina, visto che i social si sono scatenati in commenti di varia natura. Riccardo, se volevi Aurora, non dovevi andare ad amici, ma di X Factor, hai sbagliato programma. Per il momento, dal fronte di Aurora Ramazzotti, tutto tace. Non sono arrivati i commenti in merito a quanto ha rivelato il giovane romantico. Per restare aggiornato sul gossip, iscriviti al nostro canale YouTube e seguici sulla nostra pagina Facebook. Grazie. 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 Grazie.